Presidente, presentazione ufficiale di Michele Serena e il nuovo allenatore delle unie del Garda per un progetto ambizioso. La Feral Pissolò vuole puntare in alto? Sì, vogliamo puntare in alto. Ripeto, quest'anno il nostro obiettivo è quello di mettere nel mirino i play-off. La scelta di Serena arriva per questo motivo. Un allenatore che ha vinto, ha vinto tanto in Lega e ha anche un'ottima esperienza in Serie B. Per cui partiamo con questo nuovo corso, anche con un buon team. Obiettivo difficile, in un campionato sicuramente forse tra i più difficili come girone di tutta la Lega, con squadre blasonotissime. Varese, Cittadella, Padova. Mi auguro che il Brescia non faccia parte di questo girone, ma di questa categoria che rimanga in Serie B. Ma per cui è difficilissimo, oltre a Pavia, Alessandria, che si giocheranno anche loro un posto nei play-off. Però l'obiettivo è questo, ci siamo dati un po' questa nuova dimensione, partendo naturalmente dal mister, da Michele Serena. Che impressione l'ha fatto il mister, come persona al di là del tecnico? Ah, persona molto semplice, ragazzo molto cordiale, un ambiente che secondo me all'interno del nostro ambiente si troverà bene, cioè un allenatore molto semplice, con le idee chiare su schema, giocatori, quello che vuole fare, grande esperienza da giocatore. No, no, ritengo sia comunque una persona positiva. Un messaggio ai nostri sponsor, che potranno vedere anche un campionato di livello, ce l'auguriamo ovviamente, e ai tifosi anche. Sì, mi auguro che naturalmente i nostri sponsor ci aiutino anche in questa nuova stagione, questa nuova avventura per gli obiettivi che hanno, perché io non posso che ringraziare loro per la vicinanza che hanno sempre avuto nei nostri confronti. E naturalmente penso che, ecco, da questo punto di vista, l'allenatore nuovo, nuovi obiettivi, sia anche per loro uno stimolo in più, ecco, a darci una mano. Ultimissima domanda, Presidente. Calcio a mercato, adesso si entra nel vivo? Sì, noi siamo partiti da alcuni giocatori fondamentali, Rannellucci era già sotto contratto, Braccaletti, Pinardi, Leonardo Duzzi. Abbiamo degli ottimi giovani, da Tanzardini a Fabri, Scavion, per citarne qualcuno. E ovvio, partiamo da qui per cercare naturalmente di fare una squadra più competitiva rispetto alla scorsa stagione. Sappiamo perfettamente che per fare il campionato che vogliamo fare bisognerà fare qualche innesto, innesto anche importante, dei giocatori magari, ovviamente, che magari possono anche costare qualcosa di più, senza però perdere la filosofia comunque di valutare i giovani e di poter giocare anche con i giovani. Questa è una filosofia che comunque in Feral Pissaroccia è sempre stata e vogliamo comunque mantenerla. Michele Serena, benvenuto allora nella famiglia dei Leoni del Garda, finalmente il nuovo allenatore dei Verde e Blu. Eccolo qui. Grazie, grazie. Sono contento che la scelta sia ricaduta su di me, perché intravedo in questa società le caratteristiche che cercavo, serietà, ambizione e voglia di far bene. È un ambiente forse dove non c'è molta pressione, ma non per questo meno ambizioso rispetto ad altri. Per cui non vedo ora insieme allo staff di cominciare questa stagione assieme ai calciatori, alla squadra, per cercare di raggiungere quello che è stato un obiettivo subito ben chiaro da parte della società del Presidente in primis, ossia quello di cercare di raggiungere una posizione in play-off, cercando di migliorare la grande annata che hanno appena concluso. C'è tanto entusiasmo in Riva al Lago. Un messaggio ai tifosi, anche se non ancora conosciuto, ma avrà modo di farlo? Sì, avrà modo di conoscere sia la gente, i tifosi, che i posti meravigliosi che ci sono qui. Ieri ho avuto modo di fare due passi nel centro, lungo lago. Da parte mia, sicuramente la massima dedizione, la massima disponibilità al lavoro, al sacrificio, per cercare di raggiungere quello che è il nostro obiettivo, perché penso che solo attraverso il grande lavoro si possono raggiungere grandi risultati. Grazie.